Dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, 18 milioni per la Regione Abruzzo. Dal finanziamento previsto per la programmazione 2014-2020, infatti, ci sarà un aumento delle risorse del 29% rispetto al passato. Ieri abbiamo approvato in giunto il nuovo riparto del Fondo Relativo alla Pesca, 14-20, 18 milioni di euro a disposizione di tutto il comparto nei prossimi sei anni. Rispetto alla programmazione precedente, del 2007-2013, abbiamo strappato 4 milioni di euro in più per il comparto che tanto ne ha bisogno. Anche sull'agricoltura ci sono stati dei fondi importanti? Sull'agricoltura abbiamo già iniziato la fase dei bandi, dall'inizio dell'anno abbiamo pubblicato 8 bandi della nuova programmazione comunitaria 14-20, tanti bandi riguardanti le aree interne, in particolar modo la zootecnia.